Buongiorno amici, oggi siamo al Passo Palade. Abbiamo sconfinato, siamo in Alto Adige, saliamo in direzione del Monte Luco che qua si dice Laugans Beach. No, Laugenalm. Non si era preparata, la tetesca Lucia. Siamo sul sentiero 10A, è caduta la prima neve due notti fa. Vediamo, zona nuova per noi. Seguiteci! Abbiamo lasciato l'auto al Passo Palade, che è il passo che collega l'Ana di Bolzano rispetto a fondo in Val di Non, Trentino, e si prende il sentiero 10A che, a parte una primissima tratta di costa, procede diciamo verso il versante a nord, nord-ovest del Passo. La prima tratta è un piccolo sentiero, poi diventa, come vedete, una ampia strada forestale carrozzabile. Il sentiero risulta molto ben segnalato. Dopo la prima tratta di strada forestale si entra in un bosco piuttosto fitto e qui il sentiero diventa veramente un sentiero e inizia a guadagnare di quota. Alla prossima! che vista ragazzi si vede molto bene per riconoscibile lo scigliar alpe di siusi e eccoci alla malga che raggiungiamo in un'ora e dieci dopo 3,2 chilometri anche dal retro della malga la vista è fantastica eccola quello dovrebbe essere il coccodrillo se avete delle curiosità scheda sopra del video e noi poi dovremmo procedere dietro la malga trovando il sentiero che procede sempre numero 10 la malga si trova su un bellissimo pianoro quota 1853 metri da qui si prosegue sempre per il sentiero numero 10 indica un'ora e dieci per arrivare al lago un'ora e cinquanta per la cima del monte luco luco come potete notare qua abbiamo l'acqua post che magari sa anche di dirla troviamo delle transizioni di colore tra autunno e inverno veramente bellissime qui complice la neve la progressione diventa un po più complicata però non ci sono passaggi per ora difficili e diventa anche un po più difficile trovare i segni del sentiero ma siamo relativamente fortunati perché ci sono delle impronte di discesa di un qualche locals che probabilmente ieri ha fatto questo giro però voi siete più fortunati ancora perché troverete la traccia gps dei sottoscritto a una in un 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andola, hai della Paganella e fino al Bondone. Per salire qui abbiamo impiegato tre ore e un quarto circa. E sono 5,3 chilometri con 900 metri di slivello. Ora scendiamo, stesso itinerario. Ci è stata bravissima. Tira c'era la neve e ora non c'è più. È andata. Siamo di ritorno, è stato un giro bellissimo, con un paesaggio fantastico, con le montagne dell'Alto Adige, il Brenta. Bello vista a 360 gradi, una cima molto panoramica. Non facilissima da raggiungere, soprattutto con la neve che abbiamo trovato. Adatta sicuramente ad escursionisti esperti, in particolare dal lago in poi è sicuramente un sentiero per esperti. È abbastanza impegnativo anche sotto l'aspetto fisico. Sono 900 metri di dislivello e poco più di 10 chilometri. Abbiamo impiegato circa quasi sei ore per fare il giro completo. Ritorno sulla stessa traccia dell'andata per cui abbiamo registrato e mettiamo sotto nel link in descrizione solo la traccia di salita. Alla prossima! Alla prossima!